Le celebrazioni leonardiane in questo 2019 hanno stratificato in Italia e nel mondo numerosissime iniziative, sia espositive, sia scientifiche, sia di ricerca. E anche il Dipartimento di Architettura ha partecipato a queste grandi manifestazioni con una serie di iniziative molto importanti, sia sul piano scientifico, sia sul piano didattico e anche sul piano museale. Abbiamo iniziato l'anno scorso con una collaborazione con il Comune di Firenze che ci ha visto partner nella realizzazione di un prodotto dedicato all'illustrazione della vicenda della Battaglia d'Anghiari, che fa parte di un percorso museale all'interno di Palazzo Vecchio e che poi sarà installato anche nella Casa Natale di Anchiano a Vinci. Oltre a questo importante progetto che è la punta di un iceberg di ricerche pluriennali che sono state svolte dal Dipartimento di Architettura e da altri soggetti sul tema della Battaglia d'Anghiari sono state attivate altre iniziative che spaziano dagli aspetti celebrativi agli aspetti della ricerca e agli aspetti della didattica. E quindi è un'occasione per mostrare alla città e alla comunità scientifica lo sforzo organizzativo e la collaborazione interdisciplinare che si è svolta in questi mesi nell'ambito appunto del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.